La Liguria è bellissima ma è anche difficilissima. Infatti quando parliamo di viticoltura eroica facciamo sempre riferimento alle 5 terre. In realtà però questo approccio riguarda un po' tutta la regione che è caratterizzata proprio da questi terrazzamenti continui e poi proprio da questa frammentazione degli ettari vitati. Pensiamo e dobbiamo considerare che soltanto il 7% delle aziende riesce a superare i 3 ettari di proprietà. Intanto stiamo parlando di altitudini che vanno comodamente oltre i 600 metri appunto sopra il livello del mare. Un tempo la viticoltura si spingeva quasi a livello zero. Oggi si tende ad andare sopra i 200 metri proprio per la paura che si ha legata a quelli che possono essere gli effetti delle alluvioni, delle mareggiate. Abbiamo tutti nella memoria cosa è successo nel 2011, poi che cosa è successo anche nel 2018. Ci sono produttori che addirittura hanno perso la loro riserva, il loro stock di bottiglie, è il caso di possa, che si è visto nel 2018 proprio portare via, chiamiamola la cantina di affinamento, quindi le bottiglie che si aspettava di mettere sul canale commerciale. I suoli, i suoli rappresentano una sfida incredibile perché qui sono duri, rocciosi, non facilmente coltivabili. C'è una buona componente di argilla che è capace anche di raccogliere acqua, ma quello che accade è che comunque con un alto livello di piovosità, perché le montagne sono proprio ridosso del mare, quindi dobbiamo anche immaginarci proprio il fronte temporalesco che arriva dal mare e che si scontra con le montagne, rimane lì e quindi porta grande pioggia. E lì il rischio proprio di avere smottamenti è altissimo. Quindi la viticoltura, in questo caso eroica, svolge anche la funzione di tenere insieme la montagna, di tenere insieme proprio i tanti terrazzamenti, perché questo è il tipo di viticoltura. Parliamo di terrazze che si susseguono in continuazione anche proprio a gradoni, con una larghezza che difficilmente va oltre i 3-4 metri. Quindi sono veramente delle lingue di vigna piccolissime, con un sistema di allevamento molto particolare, che è quello principale della pergola ligure, che è una pergola abbastanza bassa, che riesce poi a valorizzare al massimo tre tipologie di uva, che sono le protagoniste poi della doc delle 5 terre e anche dello sciacatra delle 5 terre appunto, ovvero l'albarola, abbiamo poi il bosco, che il nome evocativo ci fa capire proprio quello che è il rapporto tra la vigna e il bosco, quindi la sfida che l'uomo ha nel sottrarre alla natura il vigneto, e poi abbiamo il più classico dei vermentini, che però è diciamo più moderno perché in antichità, addirittura già nel 1100, si cita la viticoltura eroica di questo territorio, ma il vitigno principale invece era il rossese bianco, che nulla ha a vedere realmente con il rossese. Quindi una viticoltura che diventa difficile sotto molti punti di vista, ma la difficoltà ancora più grande è rappresentata da quella di andare non tanto a fare le lavorazioni, quanto a raccogliere l'uva e a vinificare, perché non abbiamo le cantine di vinificazione direttamente sul terrazzamento, quindi abbiamo la necessità di riportare verso valle le uve. E come lo possiamo fare? Beh, negli anni 60, quando il territorio, quando le istituzioni hanno cercato di ridare il via, di ridare il là, quindi alle produzioni vitivinicole, per cercare anche di tutelare proprio il paesaggio, state inserite all'interno del bellissimo paesaggio delle Cinque Terre, delle soluzioni poco impattanti proprio da un punto di vista paesaggistico, ovvero una serie di rotaie, sono delle sorte di monorotaie, sono circa 50 linee, potremmo chiamarle così, dove dei trenini riescono a salire e a scendere, però riusciamo a caricare soltanto 200 kg di uva a carrello, quindi stiamo parlando di veramente carichi piccolissimi. Fino a quel momento toccava portarsi la spalla, scendendo dei gradoni che erano difficilissimi, quindi era anche molto pericoloso, quindi era eroica sotto ogni punto di vista della viticoltura che si andava a sviluppare qua, ma eroica anche perché all'interno dei vigneti, oggi sono 350-200 ettari appunto di vigna, fino a prima della seconda guerra mondiale ne avevamo 600 circa, quindi siamo ridotti veramente di tantissimo, però all'interno dei vigneti spesso e volentieri saltano fuori delle varietà autoctone quasi sconosciute, quindi si procede a quel punto proprio all'analisi del DNA per cercare di capire che cosa abbiamo all'interno. Quindi i viticoltori, gli eroi di questo territorio, oltre a tutelare il bellissimo paesaggio, oltre a tutelare quelli che potrebbero essere dei fenomeni di erosione anche con delle canalette studiate apposta proprio per andare a far defluire le acque, oltre a rappresentare per l'economia un aspetto importante nonostante un conferitore di uva con un piccolo appezzamento di quasi un ettaro possa fare in un anno neanche 25.000 euro, però hanno la tutela anche proprio del patrimonio a un pelo grafico, quindi c'è anche una tutela culturale e sociale che è veramente importante. Ci sono produttori come Possa per esempio, che oggi ha un produttore di altissimo livello, un produttore nel mondo del vino più artigianale abbastanza conosciuto, che però deve il suo inizio in realtà a un montese a Elio Altare che nel 2004 visita il suo vigneto, lui in realtà stava, l'azienda Possa stava conferendo le uve, vedendo la qualità incredibile, tutto il sacrificio che c'erano, guarda e dice guarda non ha minimamente senso che tu conferisca le uve, devi vinificare, ti aiutiamo noi con il vicino di Possa che poi era un compagno di lavoro, mettiamolo così, di Elio Altare e da lì inizia il percorso di Possa. Però sono tante in realtà le cantine artigianali che oggi stanno fortunatamente nascendo, anche perché i proprietari degli appezzamenti sono disponibilissimi a dare vigna incomodato, a dare vigna in gestione pur di mantenere in vita quella tradizione agricola del territorio che è andata persa. Abbiamo cappellini, abbiamo burasca, ne abbiamo veramente tanti oggi che si stanno affermando con qualità grandissima e fortunatamente la qualità che si riesce a ottenere in questo territorio va a ripagare poi quelle quasi mille ore uomo di lavoro per ettaro all'anno che poi vengono vengono richieste. È stato creato anche un sistema legato alla cantina sociale, la cantina cooperativa per cercare proprio di andare a favorire questo e quindi di limitare quello che è stato l'abbandono dei campi, chiamiamoli così, l'abbandono delle terrazze con questi muretti a secco che poi soltanto mantenere quelli è un costo elevatissimo. Oggi le 5 terre si stanno rilanciando e fortunatamente la viticoltura eroica sta diventando proprio un vettore per far portare nel mondo il racconto di un territorio così unico. Grazie. Grazie. Grazie.